Per rendere l'uscita al ristorante con tutta la famiglia un'esperienza gratificante anche per i più piccoli è stato siglato il protocollo tra comune di Fano e associazioni di categoria Papapero, ristoranti a misura di bambino. L'esigenza di venire considerati come clienti veri e propri con spazi e menu appositamente dedicati a loro e le giuste attenzioni del personale è scaturita proprio dal consiglio dei bambini e delle bambine che lamentavano una scarsa attenzione nei loro confronti. Un menu bambini non è solo cotolette e patatine ma ingredienti e pietanze calibrate e presentate in modo allegro e camerieri gentili con i bambini educati. Inoltre per i ristoratori che decideranno di convenzionarsi verrà fornito un kit appositamente studiato per loro per farli divertire durante l'attesa delle pietanze senza essere piazzati tristemente con un telefonino un tablet davanti sulla tavola e alla fine del pasto anche uno spazio dove intrattenersi e socializzare con gli altri piccoli clienti. Ci sono anche due criteri plus che dopo insomma vediamo sicuramente sono molto ardui da raggiungere e sono avere un tavolo dove i bambini possono mangiare in autonomia quindi bambini di diverse famiglie che anche non si conoscono mangiano tutti insieme nello stesso tavolo e l'ultimo è poter comporre da soli il proprio pasto. Difficile perché chiaramente non si può accedere alla cucina ma magari tramite dei giochi, delle cose anche per esempio multimediali insomma ci si può inventare qualcosa per cui i bambini da soli in autonomia scelgono il loro menù. E criteri di inclusione a parte come si fa per aderire se un ristoratore volesse? Come si fa? Ci si può intanto rivolgere alle proprie associazioni di categoria che sono informatissime su questo ci aiuteranno a diffondere ma si può accedere più semplicemente al nostro sito dove sarà scaricabile il modulo, ci sono le indicazioni, il modulo va spedito a protocollo o presentato al protocollo insieme agli allegati. Poi la commissione si riunisce, seleziona questi moduli e ci sarà una cerimonia di consegna del bollino o comunque il ristorante verrà aggiunto ufficialmente all'albo dei ristoranti a misura di bambino. Questa iniziativa va inquadrata nella più ampia volontà dell'amministrazione comunale di rendere sempre più Fano una città a misura di bambini. Stabilimenti balneari con specifiche caratteristiche, strutture ricettive mirate a tutta la famiglia ma anche percorsi museali cuciti sulle loro esigenze per un turismo sempre più sostenibile non solo una città o strutture a vantaggio dei residenti. Sicuramente per noi ha una valenza primaria per i bambini di Fano ovviamente però è venuto in modo molto curioso e simpatico fuori il discorso dei bambini amici che abitano per esempio a Milano perché dovrebbero venire in vacanza a Fano e da lì è scaturito tutto un discorso per cui c'è anche questa attenzione da parte nostra e da parte dei bambini di essere accoglienti anche per i turisti comunque che viene ospite della città. E questo naturalmente può diventare un elemento interessante anche per arricchire il brand della città proprio ai fini turistici. Il target naturalmente sono i bambini e le famiglie quindi a partire dai bambini però comunque il fatto di attirare turismo anche di questa natura mi sembra una cosa molto interessante.